Mettere le donne al centro della ripresa, questo è il messaggio di Ursula von der Leyen che ha parlato in collegamento all'apertura della sessione del Parlamento Europeo sulla parità di genere a Bruxelles. Per la Presidente della Commissione Europea però prima di tutto è necessario fermare la violenza sulle donne. Al più tardi quest'anno proporremo una nuova legislazione per combattere la violenza contro le donne. Questo è diventato ancora più urgente a causa del confinamento per il virus, ha detto von der Leyen. Vivere liberi dalla paura e dalla violenza è un diritto umano fondamentale e dobbiamo garantire una protezione adeguata a tutte le donne in tutti i paesi europei, online e offline e soprattutto a casa. Parlando di Recovery Plan ha inoltre chiarito. Le donne devono essere al centro della ripresa, questo è un chiaro requisito per tutti i piani nazionali di ripresa. La prossima generazione dell'Unione Europea troverà buoni posti di lavoro sia per gli uomini che per le donne, investirà nell'istruzione di qualità per le ragazze e le donne, compresa l'istruzione scientifica. L'Unione Europea della prossima generazione sarà per tutti gli europei, donne e uomini. Per avere maggiore occupazione in Europa è necessario che anche più donne entrino nel mercato del lavoro, ha detto la Presidente della Commissione Europea. Ma per arrivare a questo dobbiamo migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata, garantire il congedo parentale per le madri e i padri, investire nell'assistenza all'infanzia e nelle buone scuole e creare una garanzia per i bambini, in modo che tutti i genitori di qualsiasi estrazione sociale possano mandare i loro figli nelle strutture di assistenza all'infanzia e a scuola.